Ciao a tutti ragazzi, oggi parliamo di sacchia pelo, in particolare i modelli di Decathlon. Ho qua i modelli da 10 gradi, 5 gradi e 0 gradi. Ne vedremo pregi e difetti e soprattutto risponderemo alla domanda. Vale davvero la pena acquistarli? Ma iniziamo col video. Iniziamo come al solito dalle caratteristiche, iniziando da questo modello da 10 gradi. Come dicevo, temperatura comfort 10 gradi, temperatura limite 5. Tenete in mente che per le donne bisogna aggiungere un paio di gradi a entrambe le misure. Ha un peso nella taglia L di 970 grammi e occupa un volume di 8 litri. Come per tutti i sacchia pelo Decathlon è disponibile in taglie. Abbiamo le taglie SM, L e XL. Tenete conto che i pesi che vi do saranno tutti per la taglia L. Caratteristiche invece di questo modello da 5 gradi. Appunto, temperatura comfort a 5 gradi, limite 0 gradi. Esiste nelle varie taglie SM, L e XL. Nella taglia L pesa 1,2 kg e occupa un volume addirittura di 11 litri. Infine, modello da 0 gradi, temperatura limite meno 5. Esiste anche lui nelle varie taglie SM, L e XL. Addirittura con un peso di 1,7 kg per un volume, pensate, di più di 15 litri. Ora che abbiamo visto le caratteristiche di tutti e tre i sacchi a pelo, iniziamo a vederne pregi e difetti. Parto subito dicendovi che i tre sacchi a pelo sono praticamente uguali. L'unica cosa che cambia sono naturalmente le dimensioni e la temperatura di comfort, ma a livello di funzionalità sono tutti e tre uguali. Quindi andrò a farvi una descrizione complessiva di tutti e tre, senza analizzarli singolarmente. Il primo aspetto su cui bisogna sicuramente soffermarsi per questi sacchi a pelo è la loro forma. Sono tutti e tre dei sacchi a peli a mummia. Ma non è un mummia molto ristretto, diciamo che comunque all'interno ci si sta bene. Diciamo che dai tre quarti in su, quindi dalla parte della vita fino alla testa, è comunque abbastanza ampio, quindi ci si muove dentro molto bene. Non dà quel senso di claustrofobia di essere chiusi dentro. Molto apprezzate sono le cerniere. Le cerniere che scorrono fino a due terzi del sacco a pelo, presente sia sul lato di destra che sul lato di sinistra. L'unica cosa di queste cerniere è che non è stato pensato nessun tipo di protezione tra la cerniera e, diciamo, l'imbottitura del sacco a pelo. Cosa vuol dire? Che ogni volta che noi andremo a tirare su e giù la cerniera, la parte di sacco a pelo si andrà a infilare all'interno della cerniera. E vi assicuro che veramente, anche solo per stare a tirare su tutta la cerniera di un lato, vi ci possono vogliere anche due o tre minuti. È molto snervante come cosa. Aspetto, però, che ho molto apprezzato è che tutti i sacchia peli si possono unire. Quindi noi possiamo prendere due o tre sacchia peli, andare ad aprire le cerniere laterali e unirli. In modo tale che, se è una coppia o comunque si può stare ancora più al caldo, si può sfruttare il calore di entrambi i corpi. Questo aspetto, veramente, soprattutto se si va via in coppia, è molto molto apprezzato. A livello di imbottitura e di temperatura, tutte e tre le temperature di questi sacchia peli sono certificate dalla norma ISO, quindi state sicuri che sono valide. Nel senso, non prendete un sacco pelo da 0 gradi e poi a 10 gradi avete freddo, le temperature sono certificate. Per quanto riguarda l'imbottitura, è comunque buona, davvero all'interno ci si dorme molto molto bene. Il problema è che è un'imbottitura molto grossa e poi vedrete che, secondo me, lascia un po' il tempo che trovano questi sacchia pelo dal punto di vista della grandezza. Il pro, invece, di questa imbottitura è che davvero all'interno ci si dorme molto molto bene. Io penso di aver passato le migliori notti in tenda utilizzando questi sacchia pelo, perché davvero il materiale è molto soffice, non dà irritazione alla pelle, non si suda all'interno, se poi naturalmente lo utilizziamo anche in maniera corretta. Quindi, davvero, per quanto riguarda il materiale dell'imbottitura, fatto molto bene. Per quanto riguarda poi la temperatura interna, questi sacchia pelo sono pensati anche di avere una parte in più di imbottitura sulla cerniera e sulla parte del collo. In questo modo si riesce a tappare ancora di più l'ingresso di aria fredda e facendo così la temperatura all'interno rimane molto più calda. Quindi, comunque, ingegnerizzati bene. Visto che parlavamo del collo, vi dico che sia il collo che la parte che circonda la testa, il cappuccio, quindi, sono richiudibili. Abbiamo sulla parte destra, per entrambi, la possibilità di tirare una cordina che vanno a restringere sia il cappuccio che la parte del collo. Quindi possiamo veramente cucirci addosso il sacchia pelo per evitare che, in caso di forte vento, possa entrare all'interno dell'aria. Altro aspetto che mi è piaciuto molto è che questi sacchia peli sono un po' idrorepellenti. Cosa vuol dire? Vuol dire che se dovesse crearsi qualche goccia d'acqua all'interno della tenda per via della condensa e dovesse cadere sul sacchia pelo, il sacchia pelo non andrebbe a compromettere la sua funzione. Sia per questo, sia anche per l'umidità. Se dovessimo utilizzare questi sacchia pelo in ambienti particolarmente umidi, non avremmo problemi di temperature e di sacchia pelo che vanno ad innalzarsi. Quindi, anche da questo punto di vista, pensate molto bene. Altro aspetto molto apprezzato di questi sacchia pelo è che si possono, appunto, comprare in varie taglie. Questo, penso, sia uno degli aspetti numero uno per quanto riguarda davvero questi sacchia pelo di Decathlon, per due motivi. Quindi, primo, che se prendiamo la nostra taglia possiamo andare davvero ad avere il sacchia pelo perfetto ed evitare quindi di avere zone in cui non utilizziamo il sacchia pelo e va a ristagnare dell'aria fredda. Altro aspetto, non da poco, è che se siete alti 1,50m non dovete prendere lo stesso sacchia pelo di una persona alta 1,90m. Avrete dei sacchia pelo più piccoli e più leggeri. Quindi, anche questo sicuramente è un punto positivo. Arriviamo però al punto saliente del video. Ha senso acquistare questi sacchi a pelo di Decathlon? Ora vi dico cosa ne penso, sacco pelo per sacco a pelo. Iniziando da questo qua, da 10 gradi. Viene venduto a un prezzo di 56€. Allora, secondo me questo qua ci può anche stare. Il prezzo è buono, online sacchia pelo da 10 gradi li si trova attorno agli 80€, quindi comunque diciamo che un buon 20-25€ si possono risparmiare. A livello di grandezza, secondo me, è giusto. Nel senso, ci può stare. È sicuramente un pochino più grande dei competitor, ma neanche troppo. Questo sacco a pelo da 10 gradi, secondo me, è la miglior scelta tra quelli disponibili di Decathlon. Davvero. Io con questo qua ve lo consiglio. Se state iniziando, volete iniziare a fare trekking, anche dormire in tenda, eccetera, e non sapete qual sacco a pelo, comprare questo qua da 10 gradi può essere una buona scelta. Passiamo ora al modello da 5 gradi. Viene venduto a un prezzo di 66€. Ve lo consiglio? Sinceramente no, e i motivi sono due. Pensando di dormire una notte a 5 gradi, secondo me ha più senso. O investire in un sacco a pelo da 8-10 gradi e poi magari vestirsi un pochino più pesanti, oppure decidere di prendere un sacco a pelo da 0 gradi e vestirsi un pochino più leggeri. Secondo me la mezza misura, in questo caso, ha poco senso, davvero. E questo è il primo contro. Il secondo contro è che comunque è enorme. Cioè, veramente, è un sacco a pelo super voluminoso. Come vi dicevo, addirittura passa i 10 litri di volume. Secondo me online, spendendo qualcosa di più, sì, magari spendendo una quindicina di euro di più, arrivando a 80 euro, si possono prendere dei sacchi a pelo che sono grossi la metà. Quindi, fate voi. Secondo me, davvero, questo non ha senso per i due motivi che vi sono noti a dire. Infine, sacco a pelo da 0 gradi. Ve lo consiglio? No. Assolutamente no. È enorme. Cioè, pensate che questo sacco a pelo, nel mio zaino, quando l'ho provato, era più grosso della tenda. Giusto per intenderci. Con un volume di 15 litri. Cioè, pensate di utilizzare uno zaino da 50 litri per fare un'alta via in tenda e avere un sacco a pelo che solo lui vi occupa 15 litri. Cioè, è tantissimo. Viene venduto a un prezzo di 81 euro. Online, molte volte, si trovano dei modelli di sacchi a pelo, sempre da 0 gradi, in sconto a 80 euro, che sono grossi la metà. La metà. E comunque, in generale, davvero, aggiungendo un semplice 10 euro, proprio 10 euro, si va ad acquistare dei sacchi a pelo che tengono le stesse temperature, ma sono molto più piccoli, molto più trasportabili e anche più leggeri. Cioè, 1,7 kg. 1,7 kg è solo il sacco a pelo. Quindi, davvero, io vi sconsiglio completamente di acquistare questo modello. Arriviamo dunque alle conclusioni per questi sacchi a pelo di Decathlon. Secondo me, sono fatti bene. Cioè, dal punto di vista dei materiali, dell'ingegnerizzazione e tutto il resto, sono dei buoni sacchi a pelo. Cioè, se compro sacco per loro a 10 gradi, a 10 gradi sto bene, ma anche qualcosina sotto. Quindi, davvero, a livello di materiali, secondo me, sono fatti bene. Il problema è la loro grandezza e il loro peso. E per questo motivo, avete visto, alcuni ve li consiglio, altri no. Se invece l'unica vostra preoccupazione è il prezzo, quindi volete proprio risparmiare al centesimo, allora sì, comprateli, perché comunque lavorano bene, sono strutturati bene. Però, davvero, se dovete fare trekking, se dovete fare trekking, quello da 0, quello da 5, io vi consiglio di non comprare questi e di guardare altri marchi, Ferrino, via dicendo, Online, li si trova tranquillamente più o meno allo stesso prezzo, spendendo poco di più. Per cosa vi consiglio questo da 0 e quello da 5? Campeggio. L'unica cosa che mi viene in mente è campeggio. Detto ciò, ragazzi, una speranza sia stato esaurente e esaustivo anche per questa recensione. Vi ringrazio per la guardata e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!